Sottoscritto a San Cataldo un protocollo di intesa tra Comune, Feder Consumatori, Udicon e Movimento Consumatori Sicilia. L'obiettivo è quello di migliorare i servizi resi alla cittadinanza. Si dà la possibilità anche ad altre associazioni dei consumatori di poter aderire. Intanto il protocollo permetterà di creare uno scambio di informazioni tra le parti sulla qualità dei servizi, ma soprattutto di effettuare un'azione di monitoraggio non soltanto di reclami e osservazioni dei consumatori, ma anche del rispetto da parte dell'ente e delle carte dei servizi. Dobbiamo del resto lavorare per migliorare le nostre carte dei servizi, afferma il primo cittadino sancataldese, e crearne di nuove per quei settori in cui le stesse non sono ancora state formulate. Ateguarle, renderle più efficaci, collegarle al lavoro dei dipendenti comunali, aggiunge, ed estenderne l'applicazione anche in un'ottica di miglioramento dei servizi offerti dal Comune. Costituito dunque un tavolo di lavoro permanente, che si occuperà anche di assistere i cittadini in merito a reclami relativi ad eventuali disservizi del Comune. Il prossimo incontro è previsto a fine mese. Continua il nostro impegno per migliorare l'efficienza della macchina amministrativa del Comune. È stato stilato la settimana scorsa un protocollo d'intesa tra il Comune di San Cataldo e le associazioni di consumatori. Associazioni di consumatori che saranno chiamate a verificare tutte le prassi amministrative del Comune, saranno chiamate a contribuire a migliorare l'efficienza del Comune, saranno chiamate a lavorare insieme al Comune per la predisposizione e la messa in opera delle carte dei servizi relative a tutti i servizi comunali. Questo è un importante passo. È un importante passo perché, ancora una volta, questo Comune diventa trasparente nei confronti della città e di tutta la cittadinanza. Abbiamo coinvolto proprio quei soggetti che per legge sono deputati ad un controllo sull'agire del Comune. Ci aspettiamo che le associazioni di consumatori, e il prossimo incontro con questo sarà il 31 gennaio, siano severe nell'evidenziare quelle che sono le problematiche all'interno del Comune e i strumenti messi in opera per riuscire a risolverle.